Sapevate che in Veneto, precisamente ad Eraclea, in provincia di Venezia, non si può vagare per la spiaggia senza maglietta, pure d'estate, ma non basta, non si possono neanche costruire castelli di sabbia, raccogliere conchiglie e prelevare sabbia, cioè letteralmente praticamente è l'incubo dei bambini sto posto, boh. All'erici non si può circolare per la città indossando esclusivamente un costume, quindi tipo a petto nudo, anzi questo scandaloso outfit non può essere sfoggiato neanche per estendere gli asciugamani fuori dai balconi delle finestre, ragazzi, boh. A Sorrento gli artisti di strada purtroppo non se la passano bene perché c'è una legge che vieta di sostare nello stesso posto per più di 15 minuti, se mi beccano mi fanno la multa, ma che vuol dire sta cosa?